Ok, ed eccoci ritornati sempre con Darksiders Oh, aspetta, un po' di lag Allora, allora Abbiamo andato in quella zona là con Vulgrim, le lande cinere, siamo arrivati finalmente, le lande cinere Allora, se vuoi entrare in queste cose? Ah, ecco che sono ste pietre di merda Oh, si spiegano parecchie cose La musica è molto... Allora Ovviamente, prima di critcare la pitrei Dovremmo vedere che succede Wow Alla faccia Del cazzo Oh mio dio Porca miseria Non è successo niente Samael non scherzava a proposito di quei vermi E poi lo Stijan sarebbe quello cattivo Ma io non so neanche che succede, secondo me Oh 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 Sicuramente penso che Un tipo ti mangiano I vermi boh Però Intanto così uno non può esplorare Tutta la zona Che cazzo è Cioè uno non può esplorare tutta la zona Che cazzo E Schiattate Qui c'è qualcosa No E basta con sta musica Ho capito Porca miseria Ahah ecco Ma però sono proprio brutti eh Mamma mia Oh Oh Isse qualcosa Isse qualcosa No mi piace Scassiamo tutto Buona Mo Che brutta inquadratura Sì però Eh che serve Perché quello sta lì Ci deve essere un motivo Ci deve essere un motivo Mamma mia quando è brutto Che cazzo Che cazzo Che cazzo Buono. 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 Però... C'è addirittura. Mio Dio. Questo è il vetro. Mamma fango. Buono. Mi devo stare attento qua. Buono. C'è su. Buono. 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 Ciao Sì 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 Porca miseria Mazzi scemo No Ehi Cazzo Ma vaffanculo Ma vaffanculo Ci adoro Scatta Non vorrei scinde Cazzo Sì 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 Sì